Commissari in stato d'accusa a Scicli sulla gestione dei rifiuti, la triade chiamata a presentarsi la prossima settimana a Palermo dinanzi la Commissione Parlamentare Territorio e Ambiente. Ancora un maxisbarco a Pozzallo, inoltre 700 su 6 gommoni salvati a largo, è uno degli sbarchi più grossi di sempre per le coste Ible, la polizia sulle tracce degli scafisti. E polemica sulle quote rosa a Ragusa, nessuna donna ancora in giunta, il PD diffida il sindaco accusandolo di non rispettare la legge. Verso il referendum contro le trivellazioni del 17 aprile, tra flash mob e manifestazioni varie, i comitati si muovono per alzare il livello di informazione. Ben trovati con l'informazione di Canale 74, in apertura come avete sentito dai titoli, la triade commissariale attualmente in carica a Scicli è in stato d'accusa. I commissari che guidano la città infatti sono stati chiamati a presentarsi a Palermo la prossima settimana dinanzi alla Commissione Parlamentare Territorio e Ambiente, per chiarire alcuni aspetti riguardanti la gestione del servizio rifiuti in città, che lo ricordiamo è la base dell'inchiesta che ha portato allo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale. Il prossimo 6 aprile i commissari che guidano la città di Scicli, da quando è stato decretato lo scioglimento per mafia dell'ente, dovranno presentarsi in audizione presso la IV Commissione Parlamentare Territorio e Ambiente all'Assemblea regionale siciliana. Ad annunciarlo è stato Maurizio Villaggio, esponente di Forza Italia e appartenente al gruppo parlamentare forzista, che ha sollecitato la convocazione della triade commissariale per chiarire alcuni punti salienti riguardanti l'attività amministrativa. L'esigenza di chiamare in audizione la triade commissariale è sorta soprattutto per le scelte effettuate in materia di rifiuti. L'attenzione è principalmente rivolta all'accordo tra il Comune di Scicli e il Consorzio Autostrade per la realizzazione di una discarica di inerti presso il sito di Truncafila, decisione che sta allarmando parecchio i cittadini di Scicli e per la proroga concessa al raggruppamento di imprese, nonostante l'indisponibilità della Tecra, azienda capofila. Altro paradosso si può riscontrare nel fatto che tra le motivazioni principali che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a sciogliere il Comune di Scicli c'è sicuramente la gestione del servizio rifiuti. Sembra strano quindi che non si siano almeno gettate le basi per avviare una gara d'appalto per affidare l'incarico per i sette anni come previsto dalle nuove normative vigenti in materia. La gestione del servizio rifiuti di Scicli come anticipato dall'orevole Nello Musumeci è sotto la lente di ingrandimento della Commissione Antimafia che è alla fase conclusiva di una indagine avviata due anni fa, indagine che tra gli altri comuni ha posto l'attenzione anche sul Comune di Scicli. I commissari sostiene Villaggio dovranno interloquire con la Quarta Commissione Parlamentare e le associazioni locali in piena tranquillità e trasparenza. Giorno 6 aprile continua ancora l'esponente di Forza Italia, finalmente siamo tutti contenti di ascoltare proprio dalla bocca dei commissari le motivazioni che stanno alla base di determinate scelte amministrative e che il mio partito, dice ancora Villaggio, e i 27 mila ciclitani vogliamo sapere da tempo. Il mio auspicio, conclude l'esponente di Forza Italia, è che a partire dal 7 aprile i commissari si aprano di più alla città preferendo il confronto alla totale chiusura che ha caratterizzato fin qui la gestione dell'ente ciclitano. E con riferimento alla recente sentenza del Tar del Lazio che ha deciso di mantenere lo sceglimento del Comune di Scicli tornano a farsi sentire gli ex consiglieri che avevano proposto il ricorso respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale. In una nota gli ex consiglieri spiegano che la decisione di rivolgersi al giudice amministrativo aveva l'obiettivo di riabilitare il buon nome della città considerato che nessuno dei ricorrenti è mai risultato destinatario di provvedimenti giudiziari e quindi soggetti totalmente differenti dalle persone coinvolte nell'inchiesta che ha portato allo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale. Per tale motivo gli ex consiglieri hanno confermato così come anticipato nei giorni scorsi nei nostri servizi del telegiornale che stanno valutando l'opportunità di presentare appello. Nel mero interesse scrivono della collettività, una collettività dicono che andava a difesa da chi aveva ruoli e attribuzioni istituzionali per farlo. E ora cambiamo argomento. Ieri a Pozzallo uno degli sbarchi più numerosi di sempre proprio sulle coste Iblee. Oltre 700 immigranti tra cui molti bambini che sono stati soccorsi mentre erano a bordo di 6 gommoni in balia del mare in precarie condizioni. Sono arrivati in 730 a Pozzallo ieri a bordo della nave Sienpilot che ha soccorso ben 6 gommoni. La pulizia di Stato ha dovuto far fronte ad uno degli sbarchi più grossi giunti sulle coste Iblee e la macchina dell'hotspot pozzallese è andata avanti a pieno ritmo per organizzare i trasferimenti nelle varie regioni. I migranti erano stati ammassati in diversi capannoni vicino le spiagge libiche e quando le condizioni del mare lo hanno permesse i trafficanti li hanno messi su 6 gommoni usando su di loro ogni violenza al fine di farli salire a bordo velocemente per poi guadagnare la fuga durante la notte. Dopo aver individuato chi avrebbe condotto le imbarcazioni fatiscenti ed aver preso accordi con loro gli organizzatori si sono defilati lasciando ogni responsabilità agli scafisti spesso arruolati tra le file dei trafficanti solo per non pagare il viaggio per guadagnare poche centinaia di dollari. La polizia ha già individuato gli scafisti sospettati di aver condotto ben 3 gommoni ma le indagini proseguono per raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli altri e di ora in ora potranno esserci sviluppi. Il lavoro più delicato è quello di cercare dei testimoni privi di paura che hanno intenzione di collaborare con gli investigatori. Sono stati sottoposti a fermo un ventenne proveniente dalla Guinea e un suo coetaneo del Gambia e 13 a setenni senegalesi. Grazie alle foto fatte durante le fasi di soccorso e dalle testimonianze dei migranti è stato possibile appurare quanto accaduto durante le fasi del viaggio. Sono 43 e così gli scafisti fermati in provincia di Ragusa in soli 3 mesi un numero destinato a crescere con la bella stagione quando le condizioni del mare faranno inevitabilmente aumentare i viaggi della speranza. E ancora a cronaca torniamo infatti ad occuparci dell'operazione Reset che ha visto ieri decapitata la stida vittoriese con l'arresto dopo i capomafia anche dei figli e del genero di Filippo Ventura. Nelle loro mani un vero e proprio arsenale. A vittoria il giorno dopo l'operazione Reset che ha dato un duro colpa ai vertici della stida in città. Ieri in manette sono finiti Gerry e Elvis Ventura figli del capoclan Filippo già detenuto e il genero Marco Di Martino anche lui già dietro le sbarre che è stato raggiunto da una notifica in carcere. Gerry e Elvis sono inoltre i nipoti del reggente Giombattista Titta Ventura in carcere dallo scorso mese di febbraio dopo le ripetute minacce di morte al giornalista dell'Agi Paolo Borrometi. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso e detenzione di una pluralità di armi di diverso tipo. Le indagini, scrivono le forze dell'ordine, hanno accertato la partecipazione dei tre indagati all'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Vittoria denominata stida e riferibile storicamente al clan dominante Carbonaro. Ad inchiodare i tre le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia grazie ai quali si è riusciti a provare che il vero e proprio arsenale rinvenuto a casa di Di Martino nell'ottobre scorso fosse in realtà nella piena e pronta disponibilità del clan e in particolare dei tre indagati. In seguita a una precedente operazione di polizia erano state infatti rinvenute armi di ogni tipo alcune con matricola cancellate, risultate rubate e persino una penna pistola di quelle che ricordano gli agenti segreti di una pellicola americana. Sicuramente un duro colpo per il clan che secondo l'ultimo rapporto della DIA sarebbe in fase di riorganizzazione. La parte sana della città di Vittoria intanto saluta positivamente l'operazione sperando in un vero e proprio reset che riguardi l'associazione mafiosa che da anni avvelena tutto l'Ipparino. E ci spostiamo a Ragusa dove il Partito Democratico polemizza con l'amministrazione e con la giunta Piccitto sulla mancanza di quote rosa proprio in giunta. Una situazione contro la legge e contro le pari opportunità secondo il Partito Democratico. Niente donne nella giunta grillina ragusana e questa non è una novità dato che da mesi ormai ci sono solo uomini negli incarichi assessoriali della giunta Piccitto. A sollevare la problematica di una giunta definita fuori legge è il PD cittadino che si erge in difesa assoluta delle quote rose e dei diritti delle donne nella politica ad ogni livello. Anche quello locale come prevede la legge secondo i consiglieri del Partito Democratico Mario D'Aste e Mario Chiavola che non risparmia nei toni duri contro la gestione amministrativa del primo cittadino Federico Piccitto. In una nota ufficiale due consiglieri scrivono che su questo tema non molleranno di un centimetro trattandosi di una battaglia di civiltà annunciando che il PD di Ragusa alzerà le barricate perché i principi delle pari opportunità non si proclamano ma si applicano ogni giorno. Anche su questi temi la rivoluzione grillina non è mai cominciata anzi si registra l'ennesima involuzione culturale e politica chiederemo tra le altre cose un incontro al prefetto e alla presidente della consulta femminile ecco perché abbiamo predisposto una diffida ed è in elaborazione un'interrogazione consigliare. Dure le parole dei consiglieri comunali del PD Mario D'Aste e Mario Chiavola che hanno presentato ieri mattina con Gianni Laurette il segretario del circolo Pippo Tumine una consistente rappresentanza di donne democratiche i contenuti di un prevedimento di diffida in carica al sindaco del comune di Ragusa Federico Piccitto con l'atto in questione si intima il primo cittadino di porre in essere immediatamente senza dilatazione alcuna in forza di potere a lui conferiti dalla legge gli atti necessari perché si attuate il principio costituzionale del riequilibrio fra donne e uomini e della parità democratica nella rappresentanza insieme alla giunta del comune di Ragusa nel rispetto delle norme vigenti. L'atto di diffida è stato notificato per quanto di competenza al prefetto di Ragusa all'assessore regionale alle autonomie locali della regione e al dirigente generale del dipartimento regionale per le autonomie locali nella qualità di capo del servizio spettorato. E sempre a Ragusa il sindaco Federico Piccito alza i toni contro l'aspe il manager Maurizio Aricò con una diffida per sospendere il trasferimento delle strutture complesse di otorino e malattie infettive a Modica. Il primo cittadino ragusano alza la voce ai toni contro le procedure di trasferimento di alcuni reparti scippati se così si può dire dal costruendo ospedale Giovanni Paolo II. Il sindaco di Ragusa Federico Piccito è inviato al direttore generale dell'asp di Ragusa Maurizio Aricò una nota di diffida rispetto al paventato trasferimento dopo le festività pasquali di alcune unità operative in particolare otorino laringoiatria e malattie infettive da Ragusa a Modica invitandolo a sospendere l'iter di trasferimento in quanto il comune di Ragusa sta predisponendo gli atti di impugnazione avanti il giudice competente del decreto di approvazione del piano aziendale dell'asp di Ragusa. La questione sollevata da Piccito nasce infatti dall'approvazione del decreto assessoriale regionale di riorganizzazione dell'asp 7 con il piano aziendale poi approvato anche dalla conferenza dei sindaci che prevede una riorganizzazione generale tra cui si trova l'assegnazione delle strutture complesse di malattie infettive o Torino all'ospedale maggiore decisione mai andata giù al primo cittadino ragusano che solo contro tutti ha preso la strada dell'impugnazione chiedendo anche la sospensione dell'efficacia del decreto e del piano aziendale per cui in caso di accoglimento della domanda cautelare l'ASPA affronterebbe una spesa inutile con spreco di risorse e di attività. Il primo cittadino chiede la sospensione del trasferimento considerato che entro breve termine si potrà conoscere l'esito del giudizio cautelare promosso dal comune di Ragusa sottolineando che non sembrano sussistere particolari ragioni di urgenza che possano giustificare l'immediato trasferimento delle unità operative in questione posizione molto forte che di certo non piacerà ai modicani che si vedrebbero scippati un reparto definito e riconosciuto d'eccellenza come malattie infettive oltre allo Torino in favore di una struttura ospedaliere il Giovanni XXIII che sebbene nuova potrebbe non avere le capacità numeriche di spazio che possano accogliere tutti i reparti voluti e stamattina il candidato sindaco Irene Nicosì e alcuni esponenti di Alternativa per Vittoria del Movimento Sorgi Vittoria si sono recati in zona via dell'Euro alla periferia ovest della città alcuni giorni fa infatti era arrivata la segnalazione di alcuni residenti della zona che lamentavano gravi disagi per le conseguenze date dall'assenza di rete fognaria nel quartiere è stato constatato come i cittadini stiano soffrendo per la grave situazione infatti oltre al pessimo odore dato dal travaso quotidiano di liquami sulla strada gravi disagi si creano quando piove si formano ampie pozzanghere che rendono così problematica la circolazione veicolare ai residenti e non solo il completamento della rete fognaria ha affermato Irene Nicosìa è uno degli argomenti prioritari sia per il decoro urbano che per la salute dei cittadini e a poco più di due settimane dal referendum del 17 aprile per dire sì contro le trivellazioni si susseguono le iniziative e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica lunedì di Pasquetta si è svolto a Marina di Modica un flash mob proprio per questo motivo NoTRIV è la denominazione del referendum che si terrà il 17 aprile a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare per dare o meno il consenso alle trivellazioni in mare voluto da nove regioni quali Basilicata Calabria Campania Liguria Marche Molise Puglia Sardegna e Veneto non decreta un'immediata interruzione delle attività delle piattaforme petrolifere ma sancisce che una volta terminate le attività in atto venga abolita la norma che permette alle società di estrarre idrocarburi entro le 12 miglia marine dalle coste italiane è un referendum dunque abrogativo al quale rispondendo sì si sarà d'accordo ad interrompere una volta terminate le concessioni le attività di estrazione di gas e petrolio nelle acque territoriali di competenza italiana anche se a questo non è correlato un esaurimento delle risorse votando noi invece si manifesta il voler continuare ad avere le trivelle in mare senza fissare una scadenza e quindi continuare le attività estrattive finché il suolo sarà una fonte di produzione noto importante da sciogliere per addentrarsi bene nella questione è soprattutto il rapporto tra energia e territorio il ruolo dei combustibili fossili estratti dal sottosuolo marino e impiegati come fonte energetica dunque due fazioni intorno al nocciolo della questione da una parte il governo nazionale che sostiene che i cittadini non devono recarsi alle urne ma a stenersi perché piuttosto che uno triv occorre uno spreco le energie rinnovabili e sostenibili sono un importante obiettivo da raggiungere ma andare avanti solo con l'oro è ancora una chimera dunque gli idrocarburi serviranno ancora a lungo dal canto suo invece legambiente con le varie associazioni ambientaliste e di consumatori si promuovono sostenitori del sì il petrolio è ormai una fonte di energia superata occorre cambiare e al gas ci sono alternative possibili come il biometano che ha un potenziale superiore e riuscirebbe a coprire un fabbisogno maggiore inoltre da analisi e studi condotti da Lega Ambiente con dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico le piattaforme in questione quelle entro le 12 miglia delle coste italiane se usate coprirebbero solo l'1% del fabbisogno nazionale per quanto riguarda il consumo di petrolio e il 3% per il consumo di gas quindi avrebbe un'esigua esistenza il loro dispiego durerebbe solo due mesi per non dimenticare poi l'inquinamento dei fondali marini in quanto il materiale nocivo che si deposita ha un'elevata densità oltre che non essere un'enorme ricchezza per lo Stato perché il petrolio estratto è di proprietà di chi lo estrae e quindi allo Stato toccherebbe solo il 7% del valore del petrolio e il 10% del gas vale la pena dunque tutto ciò se si perde in termini di salubrità ambientale di turismo e di attività come la pesca e di conseguenza di posti di lavoro e di entrate derivanti dalle attività terziarie l'associazione Greenpeace ha chiesto di fatti i dati al Ministero dell'Ambiente di tutela del territorio e del mare e non sono positivi perché se si estrae si inquina se si inquina si rischia un degrado ambientale che colpisce anche le specie viventi una questione che coinvolge anche localmente lunedì 28 infatti in occasione della giornata di Pasquetta si è tenuto un flash mob organizzato dal Comitato Modicano per il referendum del 17 aprile durante il quale nel mare antistante Marina di Modica si è simulato ciò che accadrebbe a lungo andare proseguendo in questa direzione le coste ricoperte da catrame i pesci ricoperti da petrolio ed onde nere resta a noi decidere per la nostra salute per il nostro futuro siamo quindi chiamati a stabilire se ne vale la pena il Comitato Promotore del Tavolo Verde Sicilia Agricoltura, Pesca e Indennità Territoriali ha organizzato per domani a Vittorio un incontro di lavoro con i produttori ortofrutticoli della Sicilia sui temi della grave crisi agricola in atto in particolare nel corso dell'incontro sarà presentata e discussa una nuova piattaforma strategica sull'ortofrutta che mette in discussione alcuni capisaldi storici della politica agricola comune sollecita nuovi strumenti di intervento della politica agricola nazionale e regionale e individua azioni concrete nella lotta delle agromafie per una filiera ortofrutticola libera e trasparente l'incontro si terrà a partire dalle 18.30 presso la Sala Avis accanto alla Fiera e Maia e ora capita spesso che ci siano dei disapori nei rapporti tra i cittadini e le amministrazioni ma ci sono delle tutele legali a favore dei cittadini ad esempio quando si ha un ricorso in caso di danneggiamenti dell'auto a causa delle buche cittadine proprio per questo a Gela si è verificato un caso che ha portato al pignoramento dell'auto comunale in uso anche al sindaco e di un'auto della polizia municipale un provvedimento scaturito dalla mancata corresponsione del debito e questa la causa della sottrazione al sindaco di Gela Domenico Messinese dell'auto del comune di cui usufruiva nel corso del suo mandato il provvedimento è scaturito a seguito di danni che un cittadino avrebbe subito per essere incappato in una delle buche delle strade cittadine dal legale di rappresentanza dell'uomo è stato richiesto al comune di Gela un risarcimento per danni fisici materiali e per spese mediche processuali da una seduta del consiglio comunale tenutasi il 21 dicembre scorso si era riconosciuto il provvedimento e il versamento al soggetto leso di più di 3.400 euro tra i debiti fuori bilancio ma in conseguenza del mancato pagamento è stata pignorata l'autovettura del comune che era a disposizione del sindaco e anche un altro veicolo in uso alla polizia locale Messinese che lo ricordiamo è stato espulso dal Movimento 5 Stelle ha dunque impugnato la sentenza per opporsi al pignoramento dei veicoli necessari per svolgere le attività amministrative adesso i due mezzi sono parcheggiati nel piazzale interno della stazione di polizia municipale del comune e potrebbero finire in un'asta giudiziaria dato che non se ne può beneficiare per impieghi istituzionali per dirimere la vicenda sembra essere stato nominato un legale in rappresentanza e a difesa dell'ente comune dunque ancora una volta sono le condizioni delle arterie cittadine a far parlare e a Modica si è svolta ieri la tradizionale festa della Madonna dell'Itria nella tradizione era la festa dei garzoni che usavano mangiare le scorze avanzate lunedì di Pasquetta dai propri signori oggi è invece diventata una sagra davvero in tanti modicani che si sono radunati attorno alla chiesetta dell'Itria sullo sperone roccioso rivolto ad este in centinaia non hanno voluto rinunciare alla tradizionale festività del dopo Pasquetta ricorrenza che solo a Modica si perpetua da secoli e se una volta si mangiavano le scorze delle impanate rimaste dal lunedì di Pasqua ora si consumano cavati al sugo uovo sodo e vino in una sagra organizzata da devoti e fedeli appartenenti alla comunità di Sant'Anna del quartiere d'Oriente dopo la celebrazione della Santa Messa nella suggestiva chiesetta dedicata alla Madonna dell'Odigidria tutto è pronto per iniziare la sagra con le fumante ciotole piene di cavatelli non mancano in Bella Mostra i famosi Piretta il Cedro o Citrus Medica che sono presenti in questo periodo in tutte le feste di primavera momenti di convivio in un clima di festosità dove non mancava l'accompagnamento musicale ad aglietare la serata e ora una notizia culturale il sassofenista argentino Xavier Girotto apre venerdì primo aprile alle 21 la terza edizione della rassegna lo spettacolo del jazz la data è quasi sold out Xavier Girotto è uno dei sassofonisti più famosi del mondo e sarà ospita alla QAM di Scicli per la rassegna di vie note curata da Alberto Fidone i nomi in programma a cominciare dalla presenza del sassofonista argentino sottolineano sempre di più l'alto profilo musicale della rassegna già punto di riferimento per il jazz di primavera in Sicilia curatore della rassegna Alberto Fidone nome di spessore nel panorama del jazz internazionale e con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione arrivederci